Il diritto alla salute dei pazienti e il diritto ad un lavoro dignitoso di medici e infermieri. Sollecitato da alcuni cittadini, il consigliere Antonio Blasioli ieri ha effettuato, come da prerogativa in capo ad ogni consigliere regionale, una visita ispettiva all'ospedale San Massimo di Penne. Una visita particolare, visto che a causa delle norme anti-covid, Blasioli non è entrato nei reparti, ma ha comunque incontrato medici e personale sanitario. L'urgenza numero uno rimane la carenza di organico, situazione comune al reparto di medicina e a quello di chirurgia, ma anche a radiologia. Ieri abbiamo trovato medici che facevano servizio dal pomeriggio precedente, avevano fatto la notte ed erano ancora in servizio al mattino. Ma questa è una situazione che oltre che controlegge naturalmente contro le disposizioni europee, ma è una situazione che mette anche a rischio i pazienti naturalmente che vengono curati da medici pochi, che prestano servizi continuativi ormai da tempo, non soltanto nella giornata di ieri. Questo si verifica a medicina, dove sono quattro medici, due dei quali fanno soltanto i turni notturni, quindi potete ben capire qual è il carico di lavoro loro. Si verifica a radiologia, dove c'è un radiologo soltanto la mattina, quindi non c'è la possibilità di fare altre indagini il pomeriggio e la notte, quasi che fosse vietato ammalarsi di pomeriggio e di notte. Abbiamo chiamato per sapere qual era il primo giorno disponibile per un'attacca con mezzo di contrasto, ci è stato risposto 23 febbraio, il che significa che i ricoverati dovranno aspettare il 23 febbraio per fare questa indagine e solo dopo potranno uscire. Quindi si allunga il tempo della loro degenza, con costi che aumentano naturalmente, ma anche con possibilità di cure a seguito di queste indagini. E la stessa situazione si verifica a chirurgia, dove ci sono quattro medici soltanto a fronte di almeno sei che sarebbero necessari. Ci sono anche, oltre che carenze di organico, carenze di altro tipo, strutturali per esempio? Ci sono anche carenze strutturali, ma questa è una situazione che naturalmente terremo d'occhio in una prossima visita ispettiva, quando potremo entrare veramente all'interno dell'ospedale di Penne. In base a quanto registrato, Blasioli annuncia che la situazione arriverà direttamente ai vertici regionali. Quello che abbiamo visto ieri sarà contenuto in un'interpellanza urgente che verrà indirizzata all'assessore Everì e al presidente Marsilio, dalla quale ci aspettiamo delle risposte e non delle promesse.